La Guardia Svizzera Pontificia, il piccolo esercito del Papa, ha 23 nuovi effettivi, le reclute che nel pomeriggio del 6 maggio hanno prestato il solenne giuramento nel cortile di San Damaso in Vaticano alla presenza del sostituto della segretaria di Stato, l'arcivesco Angelo Becciu. In un messaggio su Instagram, Papa Francesco ha scritto «Care Guardie Svizzere, non dimenticate che il Signore cammina con voi». Nel suo discorso, il comandante Christophe Graff ha presentato l'arma più efficace che esista sul mercato, fatta per venire alla guardia da un generoso donatore, il Combat Rosary, il Rosario per il combattimento. «E' importante che ritroviamo la via della preghiera», ha spiegato il comandante, soprattutto la preghiera del Rosario. Dio ci usa come strumenti per scongiurare il male in alcune situazioni, per questo servono una fede salda, fiducia in Dio e preghiera. Il 6 maggio è per tradizione il giorno in cui si commemora la morte di 147 soldati elvetici caduti in difesa del Papa durante il sacco di Roma del 1527. Nella messa commemorativa celebrata in mattinata, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin aveva incoraggiato le nuove reclute a non accontentarsi delle cose mediocre e fimere e a impegnarsi con l'entusiasmo dei giovani per le cose grandi, vere, per il Signore che è sorgente e fondamento di tutto.